Daniela Martelli con quest'opera ci parla del salto, il salto quantico mi viene subito da porre, il salto fisico come quello che sta facendo questa donna, il salto del tempo visto che abbiamo un orologio a spirale proprio che sta scorrendo, un salto di un fosso, un salto nell'acqua, abbiamo queste formazioni che potrebbero essere delle onde, quindi questa autrice ci pone davanti ad un salto offrendoci vari spunti di pensiero per farci cogliere che il salto è tutto ciò a cui andiamo incontro, tutto ciò che viene dopo, dopo questo salto sarò in un altro luogo e il tempo costantemente mi ricorda, il dopo verrà, prepariamo oggi il domani che ci prepariamo ad affrontare. Interessante anche la stesura del colore, la scelta dei colori che non essendo colori violenti ci danno la lievità con questo biancore di un salto che non è pericoloso ma è un salto affrontabile da tutti. Interessante anche la stesura del colore, la scelta dei colori che non è pericoloso,